Hanno stazionato per anni davanti all'ingresso del Consiglio regionale manifestando sotto la pioggia col soleone e con i piedi dentro la neve. Parliamo dei lavoratori della formazione professionale e degli ex dipendenti dello zuccherificio che oggi, grazie a due leggi presentate dall'ex governatore Michele Iorio e approvate dall'intera maggioranza con in testa il presidente Toma, astenute solo le opposizioni, trovano finalmente una prospettiva. Provvedimenti che mettono ordine nel settore dell'orientamento al lavoro e costruiscono una prospettiva nuova per tutti gli ex dipendenti delle partecipate regionali. Occorreva un provvedimento legislativo per porre fine alla nuova vicenda incredibile durata troppo tempo, tra incertezze, tempi morti tra un anno e l'altro. Queste persone hanno vissuto un dramma incredibile, quello di essere dipendenti di enti di formazione professionale, ma di essere senza stipendio in pratica. Credo che questa legge dia una risposta sicuramente di stabilità e soprattutto restituisca dignità a persone che meritavano di essere utilizzate in una maniera migliore. Oltretutto utilizzate in un settore come quello dei centri per l'impiego, l'orientamento per le politiche attive del lavoro, che in questo momento soprattutto ha bisogno di una grande attività, cosa che finora non c'è stata. Approvata anche una legge che dà una risposta ad altri lavoratori, i lavoratori dello zuccherificio del Molise. Sì, zuccherificio non solo, ma se è una legge che credo restituisca un minimo di tranquillità a chi ha perso il posto di lavoro proveniente da aziende partecipate. In sostanza politicamente la Regione, l'ente pubblico, riconosce a questi lavoratori il diritto a una ricollocazione, non fosse altro perché la responsabilità della crisi industriale comunque è condivisa dall'ente pubblico. E quindi in qualche modo, seguendo anche lo spirito di una norma nazionale, ho pensato bene di presentare in Commissione questa legge che è stata votata all'unanimità della Commissione e che dà, per esempio, ai dipendenti dello zuccherificio, insieme agli altri quando arriverà il tempo giusto, la possibilità di avere politiche mirate per la soluzione del reinserimento nel posto di lavoro e lo scivolo verso la pensione e quant'altro. Oltre alla possibilità di essere anche assunti dove ve ne fosse la disponibilità presso il sistema Regione, quindi tutti gli enti partecipati dalla Regione possono attingere da questo elenco e anche questo credo sia un problema risolto che i lavoratori aspettavano da tanto tempo.